Ma io mi sposto, mi sei passato. Eri in sciopero? Non gli hai spazzolato bene? Se vengo di lì... Perché lo devo fare io? Se lo aspettiamo che lo faccia a voi... E' come te, è bello. Ho levato 10 fori a sacchi. Ma che è? Dove è andato a fare l'altro? L'avete visto Giulio? E' andato... Dove è andato? Non l'ho nemmeno visto. L'avete visto? Ha attraversato la strada. E' arrivato la madonnina. Si, è attraversato la strada. E' andato sulla strada. Non l'hai visto? No, perché c'è l'albero lì davanti. Sì, vediamo. Dicendo. Addirittura... Mentre andava in giù, ha girato anche la testa a guardare di qua. Mentre andava giù dove? Mentre andava di là. Ha girato anche la testa di qua. Infatti ve l'ho detto. Stai a vedere che il mio caro di gira qua. No, scusa. No, no, non sei davanti. Ma c'entrano ancora i punti? Sì. Se non me lo devi venire, no? No, non è. Sì. Sì. Ma... vuoi che quello Giuliano li ha contatti? Sì. Sì. Ma... Quello lì ragazzi... Ma chi? Alfredo? Io Marcianos, Marcianos. Sì. Io quello del primo giorno, tu hai detto che era bravo. Io? Bravo. Eh? Bravo una sega. A me mi vedi subito se... Ma non doveva fare il video? Nudo. Moreno! Piano. Guarda che c'è Pinto e dopo c'è un altro cane e basta. Sì, le altre. Le altre sono tutte al maneggio. Ma dove sono? No, no, sono fuori che stanno mangiando l'erba. Sì, sì. Le vedi dove sono? Le vedi dove sono? Le vedi? No. Sì, sì. Erano giù prima, in fondo. No. Anzi. Sono lì davanti i buoni a questo. Sono lì sotto le piante d'alorite che mangiano. Pioci e spiegazioni, ma il dolore è molto difficile. Non ciò che ciò che sta per andare in fondo. È proprio. Molto! È capito? Non ciò che c'è più fanno E' una cortina. un po' dovrò gridare un po' dovrò gridare la mano che conviene può ferire e non faccio come cazzo va 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 guarda cosa ci stanno preparando guarda su questi stavano aspettando guarda su e vabbè ma c'è un mosso mosche corre e marcianus che dà le direzioni guarda tu devi vedere il lavoro che ha fatto stamattina da da un tuo da un tuo da un ovile è partita una pecora è arrivata qua e lui se ne fosse tutto il giro è venuto a prendersela e l'ha riportata là è da parte di qua io ero lì che sistemavo l'ovile e si è messo smontato però non sapevo neanche dovevole tcherni e 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 ok bravo bravo